salve a tutti oggi andremo a montare questa cassettiera dell'ikea nome eric come potete vedere la scrivania adesso è molto molto piena di oggetti il mobile invece andrà qui sotto questo è come si presenta l'interno della scatola ok il primo passo è questo quindi prendete il ripiano che trovate nel fondo della scatola più precisamente quello più in basso nel mio caso sono i ripiani con le rotelle lati 3 e questo staffa di rinforzo sul lato posizionate le rotelle a destra come potete vedere qui c'è un foro uno qui e uno di qua l'altro del piano invece ce l'ha da quest'altra parte e questa quindi non potete sbagliare in uno solo va bene quindi non potete sbagliare prendete le staffe le posizionata in questa maniera come dice la figura e infilate semplicemente e basta siedo al lato che dall'altro non c'è un destra sinistra sono perfettamente speculari le viti qui andranno successivamente non ora adesso è solo infilato e basta poi le istruzioni dicono di ruotarlo e infilare l'altro ripiano ed eccoci che ho infilato l'altro ripiano perfetto adesso passiamo al punto 3 quindi infiliamo il terzo ripiano ed ecco fatto abbiamo piegato e piegato siamo pronti per il passo 5 una volta infilato quello che dobbiamo fare anche spingere verso il fondo in questo modo se provate a tirare come sto facendo si alza tutta la struttura perché incastro se invece tirate a questo punto potrete staccarlo quindi va mandato fino in fondo siamo pronti per il passo 7 quindi ribaltiamo di 180 gradi la struttura e prendiamo le viti quelle che hanno la punta a punta e quindi non quelle senza punta prendete anche il vostro cacciavite e andiamo a infilarle qua in questo foro qui non quello più vicino all'angolo quello più lontano come fa vedere nella figura ed ecco tutte e quattro le viti avvitate vi avviso che farete molta fatica dovrete fare molta forza siamo pronti per il passo 8 prendiamo la chiave inglese che c'è data in dotazione e le quattro ruote e avvitiamola nel foro grande che è già filettato il consiglio che vi do è di avvitarle a mano all'inizio adesso non riesco più andare avanti con le mani quindi prendo la chiave inglese stringete bene con forza così almeno non si allenterà perfetto abbiamo i nostri di piano e due laterali sono tutte e tre uguali questa procedura andrà ripetuta per tutti e tre i cassetti quindi posizioniamo la lamina l'asta con il bordino rialzato di fronte a noi prendiamo due laterali 1 e 2 e come dice le istruzioni vanno messi con le rotelle ai lati più vicini a noi chiaramente quindi le rotelle andranno all'infuori a questo punto infiliamo la lastra che mi solleviamola facciamo entrare queste tre clip all'interno dei fori e successivamente tiriamo verso di noi modo da fare entrare la clip all'interno e rimanere bloccato questa procedura va fatta su tutti e due lati ed ecco fatta anche sull'altro lato adesso come dice le istruzioni ribaltiamo e prendiamo un'altra staffa da posizionare dove ci sono le rotelle che sarà quindi il fondo del cassetto ed ecco il pezzo che ci serve se non lo trovate semplicemente è stato infilato qui dietro quindi cercate qui dentro e troverete i pezzi quindi posizionate il pezzo in questo modo con diciamo all'interno capo verso di voi e infiliamoli qui dentro in questo modo qui e adesso sono pronti per il passo 11 quindi ripieghiamo queste clip potete vedere adesso prendiamo come dice il passo 12 una maniglia nel quarto lato del cassetto infiliamola non c'è nessuno adesso nessuno da soltanto viene quindi rialzato il cassetto e prendiamo quattro viti del solo tipo che rimane e quindi anche il cacciavite e abituvole esattamente i quattro fori che ci sono un consiglio che vi do è di mettere su un fianco il cassetto quindi in verticale questo modo sarà più facile inserire le viti perfetto il nostro cassetto quindi è montato adesso dobbiamo infilarlo in uno dei tre ripiani come si fa bisogna andare prima in diagonale quindi entrandoci dall'alto in questo modo quindi entrare dall'alto tale che le due ruote si allineano quindi quello del cassetto dovrà passare sopra e adesso già il cassetto è pronto quindi possiamo infilarlo e vediamo che combascia perfettamente adesso passiamo al montaggio degli altri due cassetti e ci rivedremo una volta che il prodotto è finito ed ecco che la nostra cassettiera è pronta una nota il cassetto con la chiave non può essere infilato come primo cassetto io ho fatto delle prove ed effettivamente non c'entra proprio quindi non è possibile però quindi va messo come secondo o terzo cassetto se lo vedete come è in questo momento vi accorgerete che il cassetto che si tiene che si trova sotto è aperto questo è chiuso ma anche quello sopra è chiuso infatti se tirate non si apre se questo lo mettete come ultimo questo non si aprirà perché c'è lucchetto quello sopra non si aprirà ma quello sopra ancora quindi più in alto sì quindi cosa capiamo che il cassetto con lucchetto chiude lui e quello che si trova subito sopra come potete vedere adesso è in fondo nell'ultimo quello con il lucchetto cosa accade che adesso è chiuso questo sopra è chiuso ma quello sopra no quindi cosa succede se io metto delle costi valore in quello nel mezzo che è vero che è chiuso ma io quello sopra lo posso sfilare levare ed arrivare al cassetto che si trova subito sotto quindi se mettete in questa configurazione come farò io ricordatevi che avete solo il cassetto in un basso quindi quello più basso dove potrete tenere le cose di valore e che comunque o che comunque non volete che la gente vi rubi perché altrimenti se lo mettete in quello centrale basta sfilare quello in alto e vi possono rubare tutto se invece quello con lucchetto lo mettete centrale questo problema non sussiste perché sfilando l'ultimo cassetto che sarà libero non potrete arrivare agli altri due quindi se volete essere il più sicuro possibile quello con il lucchetto conviene tenerlo centrale esattamente come dice anche nelle istruzioni come potete vedere in alto non è possibile nel centro avete libero solo quello in basso se lo mettete in fondo c'è il lumino che vi ruba il diamante se lo mettete in quello centrale